bentornati a lampi di tesla oggi partiamo dalla cina perché cominciano le consegne in cina delle model y e quindi qui c'è già la prima notizia perché siamo ancora a metà ottobre cioè il primo mese del trimestre e già cominciano le consegne siamo veramente in anticipo questo significa due cose la prima che tesla sta uscendo da quel sistema a ondate trimestrali e la seconda cosa è che il q4 sarà veramente pazzesco io ve l'ho già detto secondo me arriveremo a 450.000 auto quindi quasi 100.000 in più del q3 segnatevelo ne riparliamo a gennaio che cosa è interessante di queste nuove model y appena prodotte due cose in particolare la prima di minore rilievo sedile posteriore ha un'imbottitura tale che ne allunga la seduta di circa 3 centimetri non si sa il motivo insomma però è una cosa in più seconda modifica invece più sostanziale si tratta del sistema di sgancio manuale delle portiere posteriori cerchiamo di capire di cosa stiamo parlando tesla con model 3 e model y in particolare sblocca le portiere elettricamente cioè io quando devo aprire la porta vado a premere il pulsante che si trova sul sul pannello porta e con un meccanismo elettro attuato la porta si sgancia e si apre nelle portiere anteriori esiste ovviamente uno sgancio d'emergenza nel momento in cui dovesse mancare la corrente e questo sgancio di emergenza non è altro che una maniglia fisica esattamente sopra al bracciolo del pannello porta a portata di mano per quanto riguarda le porte posteriori invece lo sgancio d'emergenza si trova all'interno delle tasche porta oggetti mentre nel modello precedente quindi quello prodotto fino allo scorso trimestre questo sgancio era abbastanza nascosto addirittura sotto il tappetino che va a coprire appunto la portiera quindi abbastanza difficile da raggiungere con questo nuovo modello invece viene reso più visibile proprio sempre nella stessa posizione ma con un una leva di sgancio rossa quindi individuabile più facilmente perché tesla non ha messo lo sgancio anche nelle porte posteriori sul bracciolo secondo me questa è una mia interpretazione personale perché di solito comunque anche perché gli isofix sono solo dietro per i seggiolini per bambini sui sedili laterali secondo me proprio per evitare che i bambini andando a toccare le portiere possano sganciare manualmente le porte perché un conto è bloccare con appunto la sicurezza per i bambini l'apertura normale delle porte un conto è un dispositivo di emergenza e di sicurezza che ovviamente non può essere bloccato né via software né via hardware vi consiglio comunque in generale soprattutto per le dotazioni di sicurezza per la vostra auto di controllare sempre il manuale d'uso perché così quando serve se dovesse servire sapete esattamente dove trovare quello che cercate rimaniamo in ambito model y performance nello specifico perché ha una domanda su twitter che chiedeva a ilon se sarebbe stato possibile avere il track mode anche per model y performance ilon ha risposto non è proprio facilissimo ma va bene lo faremo ora calmo subito gli animi ilon time potrebbe arrivare tra due settimane come potrebbe arrivare tra due anni perché secondo me non è così semplice come potrebbe sembrare prendete il software della model 3 performance e lo mettete sulla model y beh ovviamente un'auto è diversa con un altro baricentro con un altro peso è proprio una una struttura d'auto diversa quindi non è proprio così facile replicare il software di una sull'altra oltretutto il track mode non è che disabilita i controlli e basta fa molto molto di più perché in base all'angolo di sterso e ha vari parametri allo slittamento delle ruote insomma fa intervenire i vari controlli in un certo modo quindi immagino che non sia proprio così immediato però ilon ha detto che lo farà e aspettiamo parliamo sempre di model y perché sempre su twitter a ilon è stato rappresentato che comunque la macchina va benissimo se non che le sospensioni sono un po dure ora la motivazione è ovviamente perché facendo un'auto da 400 500 cavalli un suv comunque bello grosso bello pesante se vogliamo mantenere una dinamica di guida decente dobbiamo per forza intervenire nel reparto sospensioni e telaistica in generale però ilon ha risposto che la nuova versione quindi quella in produzione da ora avrà delle sospensioni migliorate ovviamente non si parla di sospensioni pneumatiche purtroppo questo ilon l'ha detto già a più riprese che almeno per ora né model 3 né model y avranno sospensioni pneumatiche però intanto è un passo avanti ora lui non ha specificato se solo per la produzione americana oppure per tutte le produzioni di model y comunque sicuramente è un miglioramento interessante staremo a vedere e ora parliamo di model s e model x che ormai ormai arrivano ci siamo quasi e un indicatore dell'arrivo in europa è che mentre fino a ieri sul sito tesla c'era l'autonomia vltp dichiarata che però rimaneva una stima c'era proprio il chilometraggio con scritto est estimate ora invece abbiamo il dato reale omologato per quanto riguarda model s non ci sono state variazioni quindi 634 chilometri per la long range e 600 per la plaid nessuna modifica mentre per la x tesla è stata più pessimista probabilmente prima invece il modello reale europeo si è rivelato più efficiente quindi per la long range passiamo da 560 a 576 quindi qualche chilometro in più per la plaid passiamo da 528 a 543 quindi bene vuol dire che ci avviciniamo davvero alle prime consegne prima di passare ai ringraziamenti devo parlarvi di uno sconto per tutti gli iscritti al canale se guardate in descrizione sul sito punto zero trattino pg punto it trovate il link ovviamente inserendo il codice sconto devix potrete acquistare l'abbigliamento della five eleven ora ci arriviamo direttamente sul sito con uno sconto del 10 per cento perché questo non è una sponsorizzazione niente di tutto ciò semplicemente guardando il video di quando vi ho presentato la mia model 3 enrico mi ha scritto nei commenti se i pantaloni che indossavo erano della five eleven è una marca che io conosco da anni e che comunque ho usato sempre usato acquistato negli stati uniti e non sapevo neanche che esistesse in italia io veramente la uso da anni e però in italia non l'ho mai neanche cercata e quindi gli ho risposto sì certo sono questi e lui mi ha detto che è un importatore proprio di questa marca un prodotto che io conosco benissimo che mi piace un sacco e quindi ci siamo sentiti via mail e mi avrebbe fatto piacere insomma offrire a lui un po di visibilità non è che ne abbia bisogno ovviamente però non guasta e a tutti i teslari che seguono i lampi di tesla un codice sconto per questo tipo di abbigliamento quindi date un'occhiata se vi piace inserite il codice sconto davix e portatevi a casa degli ottimi capi di abbigliamento e ora passiamo ai ringraziamenti ma questa è una cosa doppia ringraziamento e benvenuto nel mondo tesla perché riccardo ha appena ritirato questa model y bianca finalmente con interni bianchi o su tutte bianche con interni neri almeno qualcosa di diverso complimenti e ha voluto anche celebrare questo ritiro con una donazione scrivendomi piccolo ringraziamento per il servizio ottimo che offre alla comunità di appassionati teslari volevo celebrare con te la conquista della mia prima tesla quindi grande riccardo grazie mille e goditi la tua model y con interni bianchi altro ringraziamento a fabio grazie mille anche a te mi ha scritto ciao fabrizio non so se ci sarò domenica a proposito domenica a livorno vi lascio sempre in descrizione i dettagli spero di sì ma nel caso non riuscissi a venire per non dimenticarmi ti offro a priori una birra o finalmente basta caffè cominciamo con le birre praticamente mi state tutti dicendo se vieni qui o se vieni di qua ti offro uno spritz eccetera vado in cometilico ogni volta vabbè no sto scherzando grazie per gli interessanti contributi che attendo ogni giorno con curiosità ma grazie a te fabio davvero e veniamo all'ultimo ringraziamento di oggi a massimo che mi scrive ciao fabrizio ti ringrazio delle info che ci dai il podcast su spotify è utilissimo per chi ti ascolta come me dalla model 3 futura model y quando passi da brescia ci vediamo per uno spritz anche a te vabbè passerò anche da brescia per questo spritz cosa devo dire va bene grazie grazie mille davvero a proposito di podcast mi avete chiesto amazon e google per amazon ve lo confermo già c'è e per google ci vorrà qualche giorno dovrebbe arrivare automaticamente sto vedendo che sta prendendo piede mi fa davvero piacere che l'idea vi sia piaciuta quindi grazie tantissimo ancora come sempre e ci vediamo alla prossima ciao